Eccoci qua, 12.01, è qua ragazzi un'emozione, da quanto tempo non ci vediamo io e te? Un secolo! Dalla domenica! Dalla domenica è tornato Massimo Giletti, benvenuto Massimo! Allora Caterina scusami ma sai qua era parecchio tempo che non lo vedevo il mio amico Massimo quindi prego con le ultime notizie vai, poi rivediamo la settimana prossima e non dal mercoledì. Buongiorno, buongiorno...